e bello a tutti ragazzi sono gamer joe e bentornati su un video di pokemon go bombers eccoci qua in game come vi sta andando l'evento animazione spero bene ragazzi ho visto già qualcuno di voi che ha trovato l'ughia shiny o qualche pokemon selvatico shiny grandi 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 e volevo raga volevo 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 cosa volevo fare non mi ricordo più allora vediamo sotto raid sotto raid che vediamo il mega gengar mega gengar poi chiaramente il leggendario l'ughia che ne abbiamo parecchi uno già partito ho startato poi ne abbiamo tre nelle uova ma quasi quasi raga io andrei a fare il mega gengar però 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 prima prima raga facciamo la mega evoluzione dai e dai e facciamo no cosa sto scrivendo mega ho cannato allora devo fare gengar ecco qua andiamo a farci quello bianco raga quello bianco bellissimo quindi 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 è questo qua questo qua 40 mega energie un cavolo raga un cavolo di niente partiamo bam 4300 psi ok preparatevi alla bellezza alla bellezza rifacciamoci gli occhi i brividi ragazzi ogni volta che vado a fare questa mega evoluzione ma guardate che bellezza che bellezza con le mosse non so se vanno bene ragazzi quasi quasi fango bomba andrei a cambiarla no cosa vado sotto pokédex allora gli cambio la mossa caricata fango bomba il colpo no ok palla ombra ecco qua facciamo tutto così tutto così ragazzi che è una bomba palla bomba ok e bellissimo si è posizionato nel nel mio pokemon più forte il primo più forte entriamo 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 andiamo sotto ride e andiamo sotto mega gengar ragazzi ma quanto cavolo è bello la cosa l'unica cosa negativa raga che non possiamo più trovarlo con il costume dannazione che peccato raga quindi invitiamo qua un po di gente allora facciamo i due li io faccio sempre a invito qualcuno raga poi mando l'invito per non starli a così almeno qualcuno già accetta e gli altri dopo li cerco andiamo a invitare chiaramente il mio moderatore che dovrebbe esserci me ne manca quindi uno si uno vediamo se c'è lui si perfetto che bisogna sempre tornare indietro una fatica ogni volta con sta cavolo di lista ok invitati cinque ragazzi siamo già dentro in eh già accettato non lo so ok boh in tre perfetto la squadra va abbastanza bene ragazzi chiaramente abbiamo lì il mega gengar come primo non avevo ancora una squadra dark cry no devo eliminare la squadra dark cry e quella chiaramente di maro a calola raga che è stata una giornata sola però molto molto bella raga in caso che non avete visto il video del day di maro a calola ve lo lascio qua nelle schede perché ho sculato in una maniera assurda andiamo con questa dai che ne dite non è proprio il massimo massimo però mio tu ce lo tira giù con un con un attacco però ragazzi dai siamo in cinque in cinque che vedo adesso perfetto cinque allenatori lo tiriamo giù molto bene quindi ci vediamo alla battaglia contro mega gengar stiamo per partire let's go let's go oddio qua cosa c'è fuori o dentro no è fuori ho un ragno ragazzi sul sul vetro qua della macchina oddio un ragno verde è verde che brutte che brutte ho mai visto verde così ma che colorino raga che colorino e ammazza qua ma già tirato giù il mega gengar oddio però intanto gli abbiamo fatto parecchio danno è parecchio danno la vita di mega gengar vediamo che ma che mossa foca il colpo foca il colpo che è una mossa terrificante il tanto il ragno torna in su verso di me fortuna siamo chiusi qua dentro raga e mio tu almeno tiene se avesse avuto palla ombra penso che ci sciottava con una mossa invece così più o meno tiene mio tu comunque sia dobbiamo per forza rientrare con un'altra squadra perché è devastante mega gengar ragazzi penso non voglio dire una ciofeca raga però penso sia la attualmente la mega evoluzione in game più forte più forte perché è veramente assurdo mega gengar chiaramente anche bisogna vedere poi vari tipi è perché non possiamo metterlo a paragoni non lo so di un mega venus or che è di tipo erba raga invece mega gengar è di tutt'altro tipo però secondo me è una delle delle mega evoluzioni più forti attualmente all'interno del game fatemi sapere comunque sia anche la vostra è raga e qua abbiamo quasi tirato giù vedete che siamo oltre la metà del tempo vita è quasi quasi rossa ci siamo quasi ragazzi dai 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 shiny però se lo trovo shiny adesso raga un pochettino mincacchio è un pochettino mincacchio perché non ne ho fatti tantissimi quando c'era il gengar col costume e non mi è uscito lo shiny infatti dovrò trovare qualche allenatore che magari me lo scambia infatti mincacchio se mi va a uscire adesso lo shiny chiaramente sono felicissimo sarò felicissimo se dovessi trovarlo però capite che un attimino vado a rosicare per quel gengar con il costume qua allora rientriamo con una squadra a caso direi manca veramente veramente stra poco per tirare giù il mega gengar ragazzi che è assurdo cioè secondo me è più forte sto mega gengar che lugia attualmente nei raid perché poi basta guardare i punti lotta raga una cosa assurda una cosa assurda lo abbiamo tirato giù con lugia shiny ragazzi che ci porterà fortuna ci porterà fortuna con questo raid o con un prossimo di lugia staremo a vedere raga dovrai anche non ci ho fatto caso se l'ho completata la missione di animazione dove eccola qua partecipa un raid partecipa un raid e vinci un raid sono uscite perfetto 60 mega energie gengar che andiamo accumularne ancora quindi la mega evoluzione che abbiamo fatto raga cos'era 40 mega energie ne abbiamo già recuperate e in più ne abbiamo fatte 20 in più assurdo ragazzi quindi il mio consiglio anche per una mega evoluzione andate a fare una mega evoluzione non so di un charizard 100 per cento o uno shiny quello che volete voi e dopo chiaramente andate a fare ancora ad esempio tra una settimana tra un mese andate a fare ancora la sua e mega evoluzione di quel pokemon lì che avete mega evoluto non prendete un altro charizard che deve ancora fare la prima volta la mega evoluzione perché sennò vi richiede ancora il pieno di mega di mega energie ragazzi ad esempio 200 e come a me in questo caso avete visto 40 top top ma prepariamoci allo shiny check di gengar raga daie normale normale non si capisce mai se shiny o no bisogna aspettare fino alla fine ok normale 16 18 non è neanche forte a Grazie a tutti. Bombers, indovinate un po' chi ho appena incontrato il boss Giovanni, il capo del team Go Rocket, non dobbiamo neanche tanto urlarlo altrimenti ci troviamo tutte le reclute qui a fianco a noi che ci circondano. Con una sorta di inganno l'ho invitato a un incontro faccia a faccia ragazzi così da cogliere l'occasione e andare a sfidarlo e soprattutto a cercare di catturare Mewtwo Ombra. E allora ragazzuoli ci siamo, abbiamo come ospite un grande di Pokémon Giovanni, un boss veramente assurdo, cioè se ne è parlato sempre tantissimo. Ora abbiamo l'opportunità qua di andare a sfidarlo ragazzi e mi marca già la squadra. Potrebbe andare però Mewtwo lo tirerei fuori ragazzi e voglio utilizzare contro il suo Mewtwo Ombra Tyranitar, quindi quel Tyranitar lì lo tengo. Vado a modificare solamente il Mewtwo che andiamo a mettere, chi cavolo mettiamo ragazzi perché sappiamo che ha Persian come primo Pokémon, come ultimo Pokémon Mewtwo Ombra, ma nel centro potrebbe avere Garchomp, Nidoking e il terzo non mi ricordo ragazzi, che casualmente sarà quello lì, vedrete. Andiamo a mettere, io metterei Dragonite, magari che ha Garchomp, proviamo, proviamo ragazzi, tentiamo così, tentiamo così, al massimo entriamo la seconda volta, come vi dico sempre, ormai la prima è sempre quella un po' per testare. Poi soprattutto Giovanni raga che è fortissimo, cioè veramente già i leader, i tre leader sono molto forti e Giovanni ancora di più ragazzi perché abbiamo visto a Persian con 8.000, 7.000 di PL e sì, dannazione, dannazione. Andiamo a fargli fuori il secondo scudo, ok, quindi ora non ha più scudi il nostro Giovanni, molto bene, molto bene, andiamo ad attaccarlo quindi, attacchiamolo, attacchiamolo, speriamo che non ci attacca lui, voglio fargli fulmine. Ah dannazione, dannazione qua, devo usare lo scudo, se no mi tira giù raga, avrei potuto andare anche con l'altro attacco, ma fulmine è un attimino, ammazza, più forte, ok. Eh però non gli tiriamo via chissà cosa, eh, riusciamo magari a fargli una frana al volo, una frana al volo, sì, perfetto ragazzi, una franissima al volo che non riesco neanche a fare eccellente, ma sì, ce l'ho fatta, ne ho ranzato uno di cerchietto, ma ce la facciamo, qua gli tiriamo giù ancora qualcosina. Kangaskhan, oh dannazione per pochissimo, Kangaskhan che, andiamo con Dragonite Draga perché voglio tenermi il Tyranitar per ultimo, ammazza, 12.000 questo Kangaskhan, fortissimo, fortissimo, vediamo un po' quanto gli facciamo con questo attacco di tipo Drago. Molto poco, molto poco perché ormai non è super efficace, però, 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 se non ci fa una caricata che non vado a utilizzare lo scudo raga, glielo tiriamo giù perché voglio tenere uno scudo almeno per l'ultimo Pokémon, ok, 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 sì, molto bene, molto bene, abbiamo praticamente due Pokémon ragazzi contro il suo Mewtwo Ombra, molto bene, vediamo quanto gli facciamo con Dragon, Dragonite, dai che voglio prenderlo, non gli facciamo una sega ragazzi, ma io switcho subito e vado con Tyranitar per usare l'attacco di tipo buio, se riesco, dai, 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 Mewtwo è bellissimo ragazzi, poi Ombra veramente, cioè, speriamo di beccarlo forte, ok, eccellente, perfetto ragazzi. Cioè, tranquilli, tranquilli, l'abbiamo tirato giù veramente con una tranquillità assurda ragazzi, molto bene, molto bene, sono contento, non finisce qui, ci rincontreremo, queste le ultime parole di Giovanni raga, quindi lo rincontreremo, staremo a vedere con quale Pokémon, sono curioso anche qua di vedere poi quale Pokémon ci butterà contro la prossima volta che lo incontriamo Giovanni, 15 tentativi, Mewtwo Ombra, che non è ancora possibile Shiny all'interno del game, purtroppo raga, ma magari anche per fortuna perché solamente con radar, col super radar di Giovanni si può trovare, ce ne danno uno ogni volta che buttano dentro queste missioni speciali del team Go Rocket, prepariamoci al check di Mewtwo Ombra, dai raga! Bellissimo, 909 punti lotta, non sono andato a vedere le statistiche tutto di quanto è questo Mewtwo ragazzi, quanto è il 100%, a me sembra vederlo così un attimino basso, un po' bassino, 909, staremo a vedere, molto easy la cattura, preso alla prima, infatti sono andato, avete visto, con Baccanas argentata, per utilizzare un attimino più di chance di cattura subito, immediata, non starli mille volte a lanciar Ball, l'abbiamo trovato con confusione e frustrazione, chiaramente, tutti i Pokémon Ombra lo troviamo con, lì troviamo con questa mossa frustrazione in tipo normale, ma procediamo, procediamo, andiamo con la valutazione, dai dai che è buono, è buono! Uno schifo ragazzi, uno schifo, ma dai, ma dai! Una schifezza assurda questo Mewtwo Ombra ragazzi, ma dai! Eh, ormai è andata così, dovrò aspettare, vedere se uscirà ancora un Mewtwo Ombra ragazzi, purtroppo non si possono neanche scambiare i Pokémon di tipo Ombra, per tentare, sapete magari, un fortunato Mewtwo Ombra, non possiamo! E, attualmente, attualmente, il mio Mewtwo Ombra più forte è quell'altro che avevo catturato al GoFest di quest'estate, 89% di V, se non sbaglio, 89, 91, l'ingiro comunque, non più forte, e, purtroppo è quello lì il mio più forte, attualmente, qua non c'è un cavolo di nulla, Giovanni ha fatto scomparire tutto, e, che due marroni ragazzi! Speravo di beccarlo almeno più forte di quello che ho già, ma va bene così! Bombers, con Giovanni è andata un po' così, così, siamo riusciti a sconfiggerlo, ma Mewtwo, appunto, uno schifo, però la fortuna l'abbiamo trovata! Eccolo qua! Execute Shiny! Le huevos ragazzi, bellissimo! Lui dorato, queste uova dorate, veramente molto molto belle! Dovrebbero essere il mio terzo Shiny, se non ricordo male! Possiamo poi andare anche a fare l'evoluzione, finalmente, Executor Shiny ragazzi, bellissimo, che ancora appunto non ho! Faremo poi una ricapitolazione di tutte le evoluzioni Shiny che andremo a fare! E là! Si presenta anche non male ragazzi, con questa percentuale V, per essere uno Shiny è sicuramente molto molto valido! Bellissimo! Abbiamo concluso con questo Shiny top ragazzi! Ottimo così! Raga, spero vi stia andando bene l'evento animazione, perché si presenta veramente molto molto bello, ma soprattutto fatemi sapere, qua sotto con un commentino, se anche voi avete registrato in questi giorni Mewtwo Ombra, almeno catturato, come nel mio caso ragazzi, perché l'avevo già registrato, ma fatemi sapere appunto se avete concluso la missione di Giovanni, se l'avete già trovato, sconfitto e catturato Mewtwo Ombra, oppure sono stato io l'ultimo ad averlo affrontato! E per oggi ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto! Mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like! Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima! Ciao Bombers! Ciao! Ciao! Ciao!